la conduttrice torna sul tweet del segretario dem poi in perfetta par condicio interna idem ospita stefano bonaccini mi sono ritrovata all'interno di un vero e proprio dibattito politico per un tweet di nicola zingaretti che mi ringraziava per aver portato la politica vicina alle persone dicendo che ce n'era bisogno ringrazio nicola zingaretti sono orgogliosa di fare in modo che politici parlino il linguaggio della gente e possano parlare a una platea così vasta come il prime time di canale 5 io parlo delle cose in maniera popolare sono convinta che temi così difficili devono entrare nelle case ed essere ascoltati dalla gente barbara d'urso in apertura non è la d'urso torna sul tweet di apprezzamento del segretario del pd che ha scatenato polemiche ironia sui social e in tv poi in perfetta par condicio interna idem ospita il governatore emiliano stefano bonaccini io in lizza come segretario il segretario il pd ce l'ha è il mio amico zingaretti nessuno mi chiede chi sarà il segretario mi chiedono del piano vaccinale e di come faremo ad aiutare le attività a riaprire poi arriverà il momento di parlare anche di questo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti